Buongiorno ragazzi, bentornati. Allora, oggi andiamo a vedere il periodo che viene chiamato comunemente Alto Medioevo, quindi alla fine del Tardo Antico, quindi quel periodo in cui ancora la Romanità, in un certo modo, sopravviveva all'avvento dei barbari, prima durante l'esistenza dell'Impero, poi dopo la caduta dell'Impero, entriamo in un periodo in cui l'Italia e l'Europa prendono un'altra strada, rimane su un sostrato di cultura latina, soprattutto tutelato dal monachesimo, che si pone ad argene all'imbarbarimento, ma la civiltà prende un'altra strada, la società prende un'altra strada. Andiamo a vedere un popolo, i Longobardi, che è il primo popolo, diciamo, che da un certo momento in poi prende un potere, un forte potere territoriale, e sceglie una strada diversa da quella della commistione fra una Romanità che governa e invece i barbari che combattono. Quindi entriamo finalmente, definitivamente, nel Medioevo. Chi sono i Longobardi? Allora, Longobardo può voler dire alcune cose, Longo sicuramente da Longus Bardi, potrebbe essere la lunga spada, piuttosto che la lunga barba, non lo sappiamo. Sappiamo però di per certo che molto probabilmente abitavano nelle zone che sono il confine fra la Danimarca e la Germania, si spostano intorno al VI secolo nella zona della Pannonia, l'attuale Ungheria occidentale, e poi a un certo punto decidono di procedere con la migrazione e di invadere i territori che allora erano appena stati riconquistati dai bizantini, cioè la penisola italiana. Nel 568, guidati dal loro re Alboino, si insediano in Italia, non trovano quasi opposizione, perché sono una sorta di, come dire, di valanga. I Longobardi partono dalla Pannonia, sconfiggono le tribù che trovano lungo la loro strada, e spesso e volentieri, anzi sempre, li inglobano. Quindi non è una vera e propria tribù i Longobardi, sono un insieme di popolazioni che più o meno si adattano allo stile di vita dei dominatori. Sono sassoni, gepidi, svevi, bulgari, e a volte anche romani, che preferiscono seguire i vincitori barbari nel loro proseguire verso l'Italia. Inizialmente entrano dalle porte friulane la via d'accesso più facile all'Italia, dove già altre volte, nei secoli precedenti, i barbari avevano attaccato l'Italia, e in pochissimo tempo estendono il loro dominio in quasi tutta l'Italia, creando un vero e proprio regno completamente, questa volta indipendente da Bizanzio. Il dominio bizantino, che aveva appena ripreso tutta l'Italia, rimane confinato alla zona dell'esarcato di Ravenna e della Pentapoli, la zona del Ducato Romano dove c'è il Papa, il sud della Puglia, la punta della Calabria e le isole che erano state strappate ai vandali. I Longobardi hanno una dominazione a macchia di leopardo, non è una vera e propria pianificazione di invasione, molto probabilmente non conoscevano neanche la carta geografica italiana, non conoscevano le mappe, seguono le vie di comunicazione, ma il più delle volte sono i singoli clan, guidati da un duca, da un capo militare, che si insediano in vari territori e rendono questo territorio disomogeneo. Quindi abbiamo una Longobardia Major, nel nord dell'Italia e nella Toscana, e una Longobardia Minor, corrispondente ai due ducati di Benevento e di Spoleto. Quindi, che tipo di popolo sono i Longobardi? Hanno un re che però, come avevamo detto in precedenti lezioni, è un re che è un capo militare, viene riconosciuto come re, ha una sua discendenza, ma se non fosse il più forte capo militare avrebbe spodestato, e ogni clan ha un suo duca che si muove spesso e volentieri in modo perfettamente autonomo. Quindi è un popolo che ha aggregato a sé altri popoli e che ha conquistato un territorio, ma in modo disomogeneo, non c'era un progetto dietro. Però già il principale alboino, che è il re che li sta guidando in questa missione, pone la capitale a Pavia, e Pavia diventerà la capitale Longobarda, che è ancora oggi riconosciuta come città dei Longobardi. Il primo periodo viene chiamato periodo dei duchi, proprio per sottolineare il fatto che il dominio Longobardo non è un dominio omogeneo, è un dominio che nasce in modo casuale, dalla scelta di alcuni capi militari di procedere in direzioni più disparate alla conquista dei territori. Ravenna non ha la forza di difendere. L'esarcato di Ravenna, che era la capitale della provincia italiana dell'impero bizantino, non ha la forza di difendersi. 18 anni di guerre con gli Ostrogoti hanno stremato l'impero, che tra l'altro sta combattendo una durissima guerra contro i Sassanidi dall'altra parte dell'impero, e quindi è facile per i Longobardi di conquistare la quasi totalità dell'Italia. La storia Longobardi è segnata dai grandi re, che di volta in volta ne ampliano i territori e ne cementano e istituzionalizzano il potere. Quindi sicuramente Rotary con il suo editto, Liot Prando e Desiderio, che è l'ultimo più famoso, raccontato anche da Manzoni nella tragedia Ladelchi. Quindi il processo di 190 anni di regno Longobardi è quello di rafforzare l'autorità del re sui duchi, per avere un regno il più possibile compatto e riunito intorno al re. Sicuramente l'apice della potenza Longobardi arriva con Liot Prando, quindi quasi 200 anni dopo l'invasione di Alboino, quando il re sottomette caccia quasi definitivamente i bizantini a cui è rimasto veramente pochissimo del territorio, diciamo, del territorio peninsulare. E soprattutto sottomette tutti i duchi, anche i duchi di Spoleto e di Benevento, che si ritenevano indipendenti dal re, pur riconoscendosi nella stirpe Longobarda, nell'etnia Longobarda, si ritenevano indipendenti. Lui riesce a sottometterli e per la prima volta sotto Astolfo, quindi il discendente di Liot Prando, l'Italia sembrerebbe poter essere finalmente chiamata un regno unitario. Ci andiamo vicino, ci vorranno poi altri 1.100 anni per avere un'Italia unita, ma quelli che ci vanno più vicino in assoluto sono i Longobardi. Importante di Liot Prando c'è il tentativo di, come dire, rendersi favorito del Papa con la donazione di Sutri. La donazione di Sutri è una donazione con la quale Liot Prando dona al Papa dei territori strappati ai bizantini. Questo allontana Roma dai bizantini e avvicina il Papa ai Longobardi, avvicinamento che era già iniziato molto tempo prima con la conversione al cattolicesimo della regina Teodolinda. Però Liot Prando ha delle mire espansionistiche, vediamo che Astolfo prende Ravenna, addirittura, quindi caccia i bizantini dalla loro storica capitale, e il Papa oramai non ha più nessuno, è rimasto il territorio papale circondato solo da Longobardi. I bizantini sono lontani, il Papa non ha più alleati. Quindi il Papa troverà, lo vedremo poi con i Franchi, l'alleato ideale dall'altra parte delle Alpi, chiamando Pipino il Breve, poi vedremo come farà, in aiuto. Pipino il Breve arriva, ha fatto un patto con il Papa in cambio dell'unzione sacra a re, perché Pipino il Breve non poteva diventare re, ma ripeto, lo vedremo in un capitolo successivo. Nel 754 e nel 756 Pipino il Breve scende in Italia, sconfigge i Longobardi, e poi vent'anni dopo, nel 774, sarà Carlo Manio a venire definitivamente in Italia a cancellare il dominio Longobardo. Quindi dei Longobardi non rimarrà praticamente più traccia. Soltanto Benevento riuscirà a mantenere per quasi 300 anni una certa autonomia, fino a che nel 1076 il Papa chiamerà i Normani, che conquisteranno tutto il sud Italia, e cancelleranno anche l'ultimo ducato di tradizione Longobarda. Quindi dei Longobardi in 200 anni rimarrà ben poco, e rimarrà ben poco proprio nel momento in cui sembrava che stessero per creare finalmente un regno unitario d'Italia. Poi ci vorranno altri mille anni. La società Longobarda è la società stereotipa della società barbarica, l'avremmo già visto in un capitolo precedente, no? divisa in fare, quindi in tribù che si aggregano in fare, al cui vertice c'è un duca, che governa innanzitutto gli arimanni, che sono gli uomini liberi, quelli che combattono, poi tutta la popolazione degli aldi, cioè i semi liberi che lavorano, e poi i servi o schiavi, quindi quelli che non hanno alcun diritto, non hanno nessuna condizione di diritto. Quindi una vera e propria piramide, alla quale come vertice via questo re, che comunque è un capo teorico almeno fino a quando, con i re dal VII-VIII secolo in poi, si comincerà a riconoscere una certa istituzionalizzazione dei Longobardi, cioè i Longobardi cominceranno a diventare un regno con delle leggi, un regno con delle istituzioni di governo, quindi con degli emissari di un re che vengono mandati nei territori a governare, quindi non più con la totale autonomia dei duchi, che avevano solamente un patto di rispetto e di fedeltà nei confronti del re. Inizialmente il rapporto con i romani è difficilissimo, anzi decisamente violento, i Longobardi ricordano molto i vandali, prendono tutto ciò che era degli italici, infatti gli italici rimangono separati proprio dai Longobardi, sono quelli che dominano e possiedono gli italici, sono addirittura il di sotto dei servi. Fino a che l'avvicinamento avviene con la regina Teodolinda, che all'inizio del Seicento si converte, la vediamo in questa immagine, col Papa, era molto amica del Papa, e questo avvicinamento spinge tutto il popolo Longobardo a diventare cattolico e quindi a integrarsi con ciò che era rimasto, ormai perché non era rimasto moltissimo, della popolazione latina, aiutati soprattutto da San Colombano di Bobbio, che noi piacentini conosciamo benissimo. Il fatto che lo sforzo di rendere il regno Longobardo sempre più un regno non tribale, ma un regno con delle condizioni di monarchia nazionale, e quindi dove tutti si riconoscono in un re che governa soprattutto con degli emissari, con delle leggi comuni a tutti, è testimoniato soprattutto dal fatto che gli ultimi rei, Lutbrand, Ratkis e Astolfo, si fanno chiamare non più re dei Longobardi, ma si fanno chiamare re d'Italia. Quindi è un processo che purtroppo poi dovremmo rimandare di mille anni. Dicevamo che la conversione al cattolicesimo è importante, ma un'altra cosa importante da ricordare è l'editto di Rotari, un re che nel 643, l'abbiamo qui in questo affresco, pone fine alla consuetudine barbarica, cioè alla legge basata su delle tradizioni orali che di abitudine e di consuetudine giudicavano gli avvenimenti delle diatribe legali. E quindi comincia a porre le basi per la formazione di una società più complessa, non ancora a livelli assolutamente di quella romana, ma perlomeno si ha per iscritto tutto quello che è, diciamo, il contrappasso da pagare in caso di si venga ritenuti colpevoli di qualcosa. Qui ho messo alcuni esempi, ad esempio di un naso tagliato si deve pagare la metà del valore di un uomo, ok? La dominazione di Longobarda, come dicevamo, finisce a un certo punto, dopo 200 anni. Pipino il Breve è stato appena nominato dal Papa Re dei Franchi e in cambio deve entrare in Italia e sconfiggere i Longobardi, perché i Longobardi stanno minacciando il Ducato di Roma, quindi minacciano direttamente il Papa, e il Papa non può più chiedere aiuto ai bizantini, da cui si è allontanato soprattutto dopo la questione dell'iconoclastia, quindi la Chiesa di Roma lì si stacca definitivamente da quella bizantina. Pipino il Breve scende in Italia, sconfigge i Longobardi e dona al Papa, esattamente come la donazione di Sutri, le chiavi di 22 città. È una data importantissima, perché è la data dell'inizio del Papa Re. Cioè il Pontefice non è più un capo religioso, lo vedremo che da qui in poi diventa un problema, un'opportunità, comunque sicuramente un fattore importantissimo in Italia, anche che contribuirà alla non aggregazione dell'Italia in uno Stato nazionale, cioè il fatto che il Papa possiede un suo territorio, di cui è anche re e non solo capo spirituale. Il dominio Longobardo oramai è in declino, dopo la sconfitta di Liut Prando, e il colpo di grazia arriva da Carlo Magno, che sposa Ermengarda, la figlia dell'ultimo re Longobardo Desiderio, ma poi la ripudia, perché Carlo Magno era un guerrafondaio, era uno che doveva conquistare territori e quindi decide di conquistare il dominio Longobardo, ripudia Ermengarda, la rimanda a suo padre, lei muore, e facilmente i franchi entrano in Italia dalle porte di Susa e sconfiggono a Pavia i Longobardi, muore, come desiderio, muore Adelchi, il figlio del re, fine dell'esperienza Longobarda in Italia, che ci ha lasciato tantissimo, magari non in opere monumentali, nei quali i Longobardi non erano assolutamente capaci, ma sicuramente ci ha lasciato tantissimo, dal punto di vista della lingua. La nostra, l'eredità più grande che ci hanno lasciato i Longobardi è la lingua, qui abbiamo solamente alcuni, pochissimi, dei termini di cui l'italiano si è arricchito, quindi noi siamo una lingua neolatina, ma che ha nella sua semantica, quindi nelle sue parole, un arricchimento enorme da parte di questo popolo germanico. Vi lascio allo studio, buona giornata a tutti!